Non ci vediamo rappresentati né da populisti né da sovranistri e come noi tantissimi elettori, quindi vogliamo essere l'alternativa al centro, con una programmazione di centro e di uno sviluppo economico importante per il territorio. E Sara Baldetti la candidata d'Italia Viva a Cortona. Correrà per la poltrona di sindaco nelle prossime amministrative di giugno. Perché è arrivato il momento di mettersi in gioco e le energie delle persone che anche sono sempre state fuori dalla politica devono entrare a piedi pari perché possiamo veramente dare tanto al nostro paese e far sì che veramente tutto diventi perfetto. Sara Baldetti, cortonese doc, 47 anni, viva Pietraia, è un'imprenditrice che si occupa di economia circolare ed agricoltura. Fa parte del direttivo comunale che nei mesi scorsi si è costituito in vista dell'appuntamento elettorale. Abbiamo dei progetti importanti nel sociale per i giovani, per gli anziani, co-housing, per quello che riguarda l'assistenza degli anziani. Poi abbiamo dei progetti soprattutto di programmazione economica a breve e lungo termine, dei programmi di rivitalizzazione di Camucia, di Terontola e comunque tutto il territorio ha una sua programmazione e attenzione da parte di Italia Viva. A breve presenterà anche la lista che la sosterrà in questa avventura. Sì, il 21 aprile con l'incontro con Teresa Bellanova dovremmo fare la presentazione dei nostri candidati. Grazie per la visione.